Sono giorni critici sul fronte idrico. Anche la società acquedottistica Ruzzo Reti sta registrando qualche problema nell'erogazione dell'acqua, soprattutto nelle zone costiere. A causa delle condizioni meteo e dell'elevatissimo consumo dell'acqua anche nelle ore notturne, i serbatoi faticano a ricaricarsi. Nonostante in provincia di Teramo non si registri uno stato di allerta, nei prossimi giorni ci saranno dei disagi e delle chiusure. La costa viene tenuta maggiormente sotto controllo, ma anche le zone interne subiranno interruzioni nelle prossime ore. Dopo Albadriatica, Martinsicuro e Tortoreto saranno i comuni dell'entroterra a dover rinunciare all'acqua per qualche ora. Le chiusure serali e notturne andranno dalle 22 alle 6 e si protrarranno fino a domenica 18 agosto. Le interruzioni interesseranno il 15 agosto il comune di Campli. Nella giornata di oggi, in quella del 16 invece, si registreranno chiusure a Tossicia, Colledare e Controguerra. Alcune frazioni di Montori e Alvomano, Leoniano, Faiano, Villa Maggiore e Trinità resteranno a secco oggi e il 16, mentre per Altavilla e Cuciano la chiusura si stenderà fino a domenica, al pari di Crognaleto. Domani invece sarà la volta di Nereto. La presidente della Ruzzoreti, Alessia Cognitti, ha assicurato che si cercherà di limitare i disagi, ma ha spiegato i motivi delle chiusure, che sono inevitabili, per permettere ai serbatoi di ricaricarsi, in un processo che richiede circa 7-8 ore. La situazione verrà monitorata e appare al momento sotto controllo. La presidente però ha voluto lanciare un appello ai cittadini, chiedendo la massima collaborazione. L'invito è quello di non sprecare l'acqua, ad esempio per annaffiare giardini, lavare terrazze e automobili o riempire piscine, e di non lasciare aperte le fontane pubbliche.